Buongiorno a tutti da Alice Giarolo e Nicola Lazzarin. Benvenuti alla seconda puntata della finestra sul cortile. Nicola, vuoi ricordare ai nostri ascoltatori il senso di questa rubrica? Certo, ricordiamo che l'obiettivo principale della nostra trasmissione è quello di parlare di temi di politica internazionale, eventualmente poco noti all'opinione pubblica in quanto anche poco pubblicizzati sulle scalette dei media. Il piglio con il quale vogliamo dedicarvici vuole essere a metà strada tra l'informazione di stampo canonico ed approfondimento specialistico. Bene, quindi sperando di riuscirci vogliamo vedere di cosa parleremo questa settimana? Allora, dopo aver trattato delle elezioni presidenziali in Francia il mese scorso, cambiamo ora radicalmente scenario. Dall'Europa ci spostiamo infatti al continente africano, specificamente in Mali, per disquisire della ribellione del popolo Tuareg e del colpo di Stato che peraltro non si è ancora concluso. Potresti riassumere brevemente ai nostri ascoltatori di cosa si tratta questo ribellione. La ribellione ha avuto inizio il 17 gennaio presso alcune fazioni della popolazione Tuareg e di altre genti che abitano il deserto del Sahara. Il suo movimento di stampo secessionista nei confronti del governo centrale vede alla sua testa il movimento nazionale per la liberazione del territorio dell'Azawad. C'è inoltre una connessione con la recente guerra in Libia che mi sembra interessante segnalare e anche molto utile per capire la caratteristica di questa ribellione. Sicuramente hai detto bene perché gli uomini che lo compongono o che lo hanno formato sono tutti ex combattenti e diversi tra loro sono direttamente reduci dalla guerra civile in Libia, nel corso della quale hanno combattuto per il Consiglio Nazionale di Transizione, il CNT, oppure per conto dell'esercito regolare. Penso che occorra fare un passo indietro per comprendere quanto è successo il 21 e il 22 marzo, cioè questo tentativo poi riuscito da parte di alcuni ribelli dell'esercito nazionale di rovesciare il regime di Tuareg. Allora, nel 1991 Tuareg era capo dell'esercito che assunse il controllo del paese dopo la rivolta degli studenti, che quindi pose fine ai vent'anni di dittatura di Moussa Traoré. Il governo di coalizione che ne seguì portò alle elezioni del 1992. Tuareg lasciò il potere nelle mani di Umar Conere, ma venne poi eletto nel 2002 e nel 2007. Ma nello specifico, cosa è successo tra il 21 e il 22 marzo, Nicola? Il 21 marzo, il primo giorno, i militari ribelli hanno assediato e saccheggiato diverse località della capitale Bamako, compreso il Palazzo Presidenziale, detto anche la Culuba. Poi la sede della televisione di Stato, conosciuta come ORTM, la Borsa del Lavoro, che tra l'altra cosa è anche sede dei sindacati e che è stata data alle fiamme, e la caserma militare di Cati, prima di istituire il cosiddetto Comitato Nazionale per il ripristino della democrazia in Mali. Però, prima di addentrarci negli ulteriori dettagli, penso dal mio punto di vista, che sia utile fornire qualche cenno sul popolo Tuareg. Potresti, ecco, nello specifico, dice, ricostruire brevemente le tappe storiche che ci aiutano eventualmente a capire questo suo ribellismo? Certo, sono d'accordo con te che occorre guardare da vicino questa popolazione dei Tuareg, che sono innanzitutto gentiberbere, quindi originarie dal Nord Africa, che esercitano la pastorizia e sono nomadi. Ammontano a circa 5.200 milioni e parlano la lingua omonima, di origine afro-asiatica, e praticano la religione musulmana. I territori nei quali si ha la loro maggiore diffusione sono ovviamente il Mali, ma più ancora il Niger, e fortissime comunità si hanno sia in Algeria, sia in Burkina Faso, in Libia, sino ad arrivare al Chad. Ecco, è possibile quindi rintrazzare un tratto comune fra tutte le sue ribellioni? Direi di sì. Diciamo che le ribellioni del popolo Tuareg sono sostanzialmente 5 e hanno il loro inizio nel 1916. Infatti sono tutti dei veri e propri conflitti armati che hanno visto coinvolta in prima fila la popolazione Tuareg maliana, ma anche del Nord del Niger. La prima, nello specifico, ebbe luogo tra il 1916 e il 1917 per l'appunto nel Niger del Nord, prima di essere stroncata dal dominio coloniale francese. La seconda, invece, si ha dopo l'indipendenza dalla Madepatria tra il 1962 e il 1964 e vide fronteggiarsi gruppi tribali e i clan Tuareg assieme all'esercito regolare. La terza va dal 1990 al 1995 e fu combattuta su entrambi i fronti, come quella successiva e terminata grazie alla ratifica di alcuni accordi di pace. La quarta, che forse è quella più interessante per noi perché anticipa quella di cui torneremo a parlare tra poco, cominciò nel febbraio del 2007 per concludersi tra il febbraio e il maggio del 2009, per effetto di un cessate il fuoco e di un'amnestia generale promulgata nel Niger. Quindi, in ultima analisi mi sembra di cogliere che tutte queste ribellioni si siano risolte in un esito negativo. Certo, hai ragione, diciamo che tutti i tentativi sono coronati dall'insuccesso da parte dei ribelli Tuareg, di formare il proprio stato nazione che è poi l'obiettivo o quantomeno di ottenere il diritto all'autodeterminazione, seppur estorto con la forza. Per tornare agli eventi più recenti, Nicola, puoi raccontarci qualcosa proprio sulla deposizione del Presidente Tuareg? Sì. Allora, il 22 marzo, come dicevamo, il Presidente Tuareg è stato deposto, mentre tentava di arginare la crisi montante. Tutto questo un mese e una settimana prima dello svolgimento di una consultazione elettorale, in vista della quale, fra le altre cose, l'ex capo di Stato non si è rappresentato, e questo per rispetto nei confronti della Costituzione del Paese. Nel frattempo, i militari riottosi si sono unificati sotto la bandiera del Comitato Nazionale per il Ripristino della Democrazia in Mali e hanno sospeso la Costituzione del Paese, salvo poi ritirare il provvedimento il primo di aprile. Una mia curiosità, Nicola, vi sono altri schieramenti oltre al Comitato Nazionale per il Ripristino della Democrazia in Mali di cui ci hai parlato? Sì, sul fronte opposto al Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad si è successivamente unita la formazione islamista Ansar Bin, espressione che letteralmente significa difensori della fede, che parimenti persegue la lotta contro il governo centrale, però anche l'instaurazione della sharia, vale a dire la legge religiosa islamica all'interno dello Stato. Ma quali sono stati, in fin dei conti, i successi dei ribelli? Sino a questo momento il Movimento e il gruppo Ansar Bin hanno avuto successo nel porre sotto il proprio controllo l'intero territorio settentrionale del Paese e, conseguentemente, all'instabilità derivata dal golpe, le tre principali città maliane, che sono Kidal, Gao e Timbuktu, sono state conquistate dai ribelli nell'arco di tre giornate consecutive. Poi, il 5 e il 6 di aprile, con la caduta, tra gli altri, anche del sito di Duenza, il Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad ha potuto proclamare l'indipendenza di questo territorio dal resto del Mali. Quindi il colpo di Stato, nei confronti dell'ex presidente Tourette, che è stato rimosso sulla base della propria incapacità di fronteggiare la ribellione Touareg, si è così risolto in un clamoroso autogolla per gli ufficiali che sono insorti. Vuoi spiegarci quindi, Alice, anche da una prospettiva di respiro internazionale, quali sono state e quali sono le reazioni a questo colpo di Stato? Certo, le reazioni al colpo di Stato sono state tra loro contrastanti. In particolare, per quanto riguarda la politica interna, possiamo usare la tua immagine di un clamoroso autogoll, proprio perché i partiti in Lizza, per quella che era la competizione elettorale prevista per il 29 aprile, hanno già preso le distanze dagli ufficiali golpisti. Per quanto riguarda invece l'Africa, la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, l'Ecovas, ha messo invece in guardia i ribelli Touareg, invitandoli a cercare un cessato il fuoco con il Mali, mentre l'Algeria, già alla fine di gennaio, aveva provveduto a ritirare i propri esperti militari e a porre fine al supporto bellico al paese, proprio per spingere il suo governo, a ricercare una soluzione per la fine dello scontro. E la Francia, di cui abbiamo parlato anche se su un altro versante il mese scorso, ti chiedo, a riguardo penso che abbia dato dei segnali forti. Sì, ritorniamo a parlare di Francia proprio perché il 26 febbraio c'è stata una visita da parte del ministro degli esteri francese, Alain Juppé, che ha esortato il governo centrale Magliano a cercare una negoziazione proprio con il Movimento nazionale per la liberazione della Svad. La cosa, ovviamente, non ha mancato di sollevare polemiche, in quanto Juppé è stato accusato proprio di legittimare una ribellione che, mentre nel sud del paese, è vista in particolare come qualcosa di condotto da ufficiali guidati esclusivamente da un opportunismo e da interessi personali. Allargando un attimino il nostro sguardo, rimanendo sempre in tema di Europa, l'Unione come si sta muovendo o se si è già mossa, in che direzione lo ha fatto? Sì, alla fine di marzo c'è stata una riunione a Bruxelles del Comitato per gli affari esteri dell'Assemblea parlamentare che riunisce i paesi dell'Unione europea, ma anche quelli di Africa, Caraibi e Pacifico. Per voce dei suoi co-presidenti ha espressamente condannato la violenza e ha messo in relazione la rivolta e il colpo di Stato con lo scenario apertisi in seguito alla fine della guerra civile libica, quindi ritorna il confronto con la Libia. Il golpe e l'avanzata dei ribelli hanno anche suscitato l'allarme degli Stati Uniti che non sono rimasti a guardare, proprio perché sono timorosi che la regione possa diventare un'ulteriore base per Al-Qaeda. Cosa possiamo dire invece per quanto riguarda il fronte dei diritti umani? La situazione resta estremamente critica da quanto ho avuto modo di capire, o sbaglio? No, hai perfettamente ragione, perché la situazione sul fronte dei diritti umani resta critica, specialmente per quanto riguarda le violenze commesse su ragazzi e donne da parte degli stessi insorti. Poi Amnesty International, il 6 aprile, rilascia una dichiarazione secondo la quale il Paese si trova sull'orlo addirittura di una catastrofe umanitaria dalle enormi proporzioni. Nello spazio di poco meno di quattro mesi, infatti, sono già 250.000 le persone che sono state costrette ad abbandonare i propri villaggi e che cercano rifugio ovviamente nei paesi vicini o addirittura all'estero, mentre il bilancio dei morti assieme a quello degli incarcerati e dei dispertisi ammonta complessivamente tra i 1000 e i 1500 individui, quindi una situazione davvero allarmante. Quindi, fino a questo momento, reazioni in sede internazionale, situazione relativa ai diritti umani, c'è però anche un altro allarme di altra natura che riguarda, nello specifico, il patrimonio culturale del Paese. A riguardo cosa ci puoi dire? Di cosa si tratta? Certo, ci spostiamo ovviamente su un altro versante del quale si può essere più o meno sensibili, comunque sotto assedio anche il mondo della cultura, ed in particolare il patrimonio storico di Timbuktu, nello specifico i suoi manoscritti che ammontano a 700.000 documenti tra i più diversi che addirittura risalgono al XIII secolo. Sono poi seriamente esposti al rischio di essere venduti oppure distrutti, in particolare da parte degli insorti islamisti che, come hai spiegato tu, fiancheggiano in questa ribellione i Tuareg. L'UNESCO, nello specifico, ha poi lanciato un allarme proprio, dal momento che si trova in pericolo anche una gran parte di quello che è il complesso architettonico cittadino di Timbuktu, per appunto. In primo luogo le grandi moschee, ma non mancano all'appello anche i vari cimiteri che necessiterebbero di essere preservati. Diciamo che, oltre al mondo della cultura, ci sono poi delle conseguenze spicce, per così dire, sul vivere quotidiano, connesse in particolare alla deriva islamista, che mi sembra il caso di ricordare e di rendere espliciti. Sì, perché qualche minuto fa abbiamo per l'appunto citato la formazione islamista Ansardin, i difensori della fede, che mirando ovviamente dal canto loro a puntare a istituire la sharia, la legge religiosa islamica all'interno del paese, hanno per mano ovviamente dei suoi portavoce, ha già fatto chiudere diversi locali e stabilimenti nei quali vi era la presenza di alcol. Non solo, ha anche proibito la trasmissione di musica occidentale presso le radio, sostituendola con dei canti di preghiera. La maggior parte degli hotel cittadini del paese sono stati depredati e chiusi, mettendo quindi in ginocchio l'industria turistica. A Gao in particolare si segnalano saccheggi di negozi e di chiese. Quindi un risvolto anche religioso legato a questo ribellione non tralasciabile, direi. Ti vorrei chiedere per concludere, Nicola, se vuoi tracciare una fisionomia generale legata proprio a quanto emerge da questa situazione dopo la ribellione di cui abbiamo parlato. Sicuramente. In assoluto direi che emerge un quadro nel quale manca per l'appunto una leadership che sia capace di prendere finalmente in mano il destino della nazione. I militari dell'esercito regolare sino a questo momento manifestano una logica esasperazione nel dover affrontare questi ribelli che, come abbiamo già detto, essendo in grossa parte reduci dalla guerra civile in Libia, sono chiaramente meglio equipaggiati. Gli esponenti dell'esercito regolare, in un loro comunicato, hanno richiesto dei mezzi proporzionati per tutelare l'unità del paese, del Mali. A riguardo aggiungo che sarebbe di estremo interesse venire a conoscenza della fine che hanno fatto tutti i fondi che gli Stati Uniti, a partire dal 2008, hanno destinato alle forze armate maliane per combattere Al-Qaeda negli spazi del Maghreb. Per cui ritorna anche in questo caso il tema della guerra civile in Libia come un tema di assoluta importanza ai fini di quello che è stato l'armamento, la preparazione militare dei ribelli che in occasione di questa ribellione, a differenza delle precedenti, sembrano finalmente aver avuto successo nel perseguire, nel conseguire i propri obiettivi di secessione dal governo centrale, a differenza dei tentativi, ripeto, precedenti che risalgono fino all'inizio del secolo scorso, insomma. Certo, grazie mille Nicola. Io avrei una riflessione generale che riguarda proprio la caratteristica del nomadismo del popolo Tuareg di cui abbiamo parlato prima, no? E quindi questa ribellione come si scrive all'interno dell'idea del nomadismo. Però questa la lasciamo come riflessione aperta e ti lascerei fare i saluti ai nostri ascoltatori. Sì, allora, anche per questa settimana abbiamo concluso. Da Nicola Lazzerin e Alice Giarolo è tutto. Noi vi rimandiamo tra un mese per il prossimo appuntamento. Nel frattempo ricordate che potete scaricare i nostri podcast sul sito radio doppiomalto.it ogni domenica a mezzogiorno e nel frattempo non dimenticate di cercarci anche su Facebook. Eh, Alice io cedo la parola a te. Concludiamo questa volta con le parole di Alberto Moravia da una sua lettera ad Alsara, lui che è stato affascinato da questo deserto e dall'inviolabilità di questi luoghi. Sulle sabbie del deserto, come sulle acque degli oceani, non è possibile soggiornare, mettere radici, abitare, vivere stabilmente. Nel deserto, come nell'oceano, bisogna continuamente muoversi e così lasciare che il vento, il vero padrone di questa immensità, cancelli ogni traccia del nostro passaggio, renda di nuovo le distese d'acqua o di sabbia, vergini e inviolate. Vi saluto dalla finestra sul cortile e vi aspettiamo alla prossima puntata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!